Sarà un vero e proprio weekend del ciclismo, quello che comincerà venerdì 17 maggio con l'arrivo della settima tappa del Giro d'Italia nel cuore dell'Aquila, nel decimo anniversario del terremoto che ha messo in ginocchio la città. Un lungo weekend sportivo che si concluderà con la Gran Fondo dell'Aquila domenica e 19 maggio, tre giorni di festa, di buon cibo, di convegni in cui la città accoglierà gli atleti ma anche tanti turisti, ciclisti che potranno emozionarsi ripercorrendo alcuni dei tratti toccati dal Giro d'Italia due giorni prima. Abbiamo realizzato un calendario di eventi dai più vari, due di convegnistica che riguarderanno la sicurezza stradale con la partecipazione anche di sportivi, di ciclisti, di campioni e ex campioni, rivolto anche al mondo delle scuole quindi anche come strumento educativo e di sensibilizzazione. Avremo uno street food che sarà vivo nei giorni del Giro e si ringerà di Rosa. Volevamo renderlo diverso da quello che era stato il finale del 2010 quindi abbiamo pensato anche in onore insomma della ricorrenza del decennale del terremoto che volevamo un finale che abbracciasse un po' tutta la città. Per arrivare poi di fronte alla splendida Basilica di Colle Maggio. Esattamente all'emiciclo e alla Basilica di Colle Maggio avevamo questi due elementi che diciamo dopo il terremoto abbiamo l'amministrazione insomma chi ha lavorato ha restituito la città era giusto che magari l'arrivo fosse posto lì in quel posto. La Gran Fondo sarà anche l'occasione per promuovere i pacchetti turistici per chi vorrà vivere a pieno l'intero weekend aquilano. Fa conoscere strade bellissime del nostro interland amatori e ciclisti abruzzesi e non solo. Abbiamo ovviamente voluto combinare questo evento con la tappa del Giro e come dice Vittorio Fabrizia la tombola è il tombolino. Tra gli eventi collaterali torna dopo alcuni anni di sospensione dovuta alla ricostruzione post-sisma anche la stracittadina del 5 maggio organizzata dall'Atletica Abruzzo. Che oltre a prevedere la competitiva di 10 km comprende anche una passeggiata non competitiva aperta a tutti che riscuote sempre un buon successo.